Giro e ti apro qua, no? Pompetti un pochino nel diffusore, così non fai fatica, ok? Apri tutto. Tira un po' più sul braccio, così, ok. E quando arriva alla fine chiudi? Quando vedi che esce la voce, chiudi. Chiudi? Ti chiedi la... Allora, io ti prendi un gocci. Perché io dico sempre di non togliere le tappi.